Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso celebrati i funerali dell'operaio morto dopo essere caduto dal tetto di una fabbrica a bellocchi di Fano Colpo dei ladri al vallato Svuotato il magazzino di una tabaccheria, l'Associazione Nazionale dei Tabaccai dice Ci sentiamo sotto attacco Riaperto il Tribunale di Pesaro dopo l'incendio del dicembre scorso, bonificati 14.000 fascicoli A Loreto si è celebrata la festa regionale delle Proloco con centinaia di volontari provenienti da ogni parte delle Marche Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti cari telespettatori di Fano TV Sul canale 17 c'è un'informazione locale Cominciamo dai furti, furti che si registrano praticamente tutte le notti Questa volta al vallato, un quartiere di Fano, i malviventi hanno messo a segno un colpo da circa 15.000 euro Sono entrati in un deposito di una tabaccheria e hanno portato via tutto La banda del buco colpisce ancora, ed ancora una volta per rubare dentro il deposito di una tabaccheria Nella notte scorsa, passando attraverso il foro praticato nella parete di un magazzino adiacente Una banda di malviventi ha svuotato il deposito della tabaccheria a cartoleria del centro commerciale del vallato E' la terza volta che i titolari subiscono questa traumatica esperienza Mesi fa, sempre ignoti, rompendo la porta di ferro, si erano introdotti nel deposito sottostante l'attività Portando via, anche in quel caso, diverse migliaia di euro di merce Cratta e vinci e sigarette per lo più Questa volta hanno deciso di passare da un'altra strada Una volta divelta la sala cinesca di una ditta adiacente specializzata in riparazioni di attrezzature dentali Sono scesi nel deposito magazzino ed individuata la parete confinante L'hanno forata creandosi un passaggio e da lì portato via tutto quello che il deposito del tabaccaio conteneva Comprese le gomme da masticare, oltre al carico di sigarette Ma escludendo così la porta di ferro che era monitorizzata da un antifurto fumogeno Ad accorgersi del furto questa mattina i titolari della tabaccheria, l'apertura del negozio Molta rabbia e tanto scoramento nei loro volti Preferiscono non parlare né di cifre né di come stanno vivendo questi momenti Tanta è l'amarezza per quanto accaduto Ma a occhio e croce il danno subito non è inferiore ai 15.000 euro Ci sentiamo sotto attacco Siamo nel mirino di questi delinquenti Ci dice al telefono Lorenzo Paolini Referente di zona dell'Associazione Nazionale di Categoria Nessuno ci tutela e le forze dell'ordine fanno quello che possono Anzi, alle volte ci colpevolizzano perché non abbiamo i sistemi adeguati di protezione Ma con gli scarsi ricarichi che abbiamo Non tutti i nostri associati possono dotarsi di antifurti moderni Video sorveglianza collegata con le forze dell'ordine e quant'altro Ci sentiamo abbandonati a noi stessi, continua Paolini Nessuno fa niente, per noi la politica ci ignora Ma noi continuiamo a subire, occorre fare qualcosa e presto A Pesaro invece è stato sventato un furto alla Bricofer Alle 23.15 una segnalazione è arrivata alla centrale operativa della Vigilar È scattato l'allarme proveniente dal magazzino di Pesaro in via Caprini La pattuglia di pronto intervento che si trovava nei paraggi È arrivata sul posto con rapidità e ha notato segni di scasso in una parte dello stabile Immediatamente sono state avvertite le forze dell'ordine e i responsabili del punto vendita Nel frattempo gli uomini della vigilanza hanno verificato che nessuno fosse ancora all'interno della struttura Ad un primo esame sarebbero che i ladri siano stati messi in fuga dall'allarme Che quindi non siano riusciti a rubare nulla Nella chiesa di Sant'Orso a Fano, la chiesa di Santa Maria Goretti Si sono celebrati oggi i funerali di Morris Furlani L'operaio della Profilglas morto in un incidente sul lavoro Alle 15.15 il feretro arriva sul sagrato di Santa Maria Goretti a Sant'Orso Ad attrenderlo una chiesa già piena di gente ed un centinaio di persone fuori Amici, parenti o semplici conoscenti ed i suoi colleghi di lavoro Ma nessuna rappresentante dell'azienda dove il 41enne lavorava Volti tesi ed espressioni increduli per questa morte prematura sul lavoro E che cerca risposte che forse l'indagine aperta dal magistrato troverà Ma negli sguardi delle persone si intuisce anche la ricerca di altre risposte Ai perché che inevitabilmente, come dice Don Giorgio Giovannelli durante l'Omelia Ci si pone in questi casi Ma le nostre conoscenze non ci permettono di ottenere simili risposte Dallo scetticismo materialista dei nostri giorni L'esempio dell'atomo presente nel freddo marmo Non è perché non riusciamo a vederlo che esso non esiste Lui c'è anche se il nostro sguardo non lo percepisce Così è la fede, così è la struttura della fede E la fede è la sola struttura che ci può aiutare a trovare risposte alle nostre domande Un'Omelia asciutta, delineata, tratti anche fredda e scarna, quella del sacerdote Ma che lascia i presenti con la speranza nel cuore che ora Morris vive nello stato in cui vive Dio Nella sua stessa essenza La volontà di Morris è la volontà di Dio E la volontà di Dio è quella di pregare per noi Perché la morte non spezza i legami, ma li rafforza Il silenzio rumoroso della chiesa nel composto dolore della famiglia Viene accompagnato dall'ultimo pensiero di Don Giorgio Con la luce della fede, Dio ci dice che Morris è vivo Pochi istanti ancora, poi il feretro, tra ali di folla Uscirà dalla chiesa alle 16.20 per dirigersi verso il cimitero di Cartoceto E' pienamente operativo il Tribunale di Pesaro Dopo l'incendio del 30 dicembre scorso Che aveva portato ad una dichiarazione di inagibilità Sono stati bonificati circa 14.000 fascicoli tra civile e penale Foglio per foglio Alcuni dei quali veramente impegnativi Come nel caso del processo per l'omicidio di Ismaele Lulli Dice il Presidente del Tribunale Mario Perfetti Sull'incendio le indagini sono ancora in corso Ma neanche si può parlare di cortocircuito Si è trattato di una banale evenienza Particolarmente complessa La bonifica, un'operazione da quasi 1.400.000 euro 1.300.000 sono impegnati dal Comune Coperto dall'assicurazione generale 80.000 invece quelli del Ministero Dopo le dichiarazioni del Sindaco di Fano Massimo Seri Nel nostro telegiornale di venerdì Che minimizzava un po' la portata Della richiesta di chiarimenti Da parte del Movimento 5 Stelle Sui contributi dati a pioggia Alle associazioni Oggi torna e replica di nuovo al Sindaco Replicano i grillini Sentiamo Il Sindaco ha indicato Soltanto un paio di criticità Su questo fronte Voi invece ne evidenziate ben altre Certo, il nostro studio ha evidenziato Che per i contributi straordinari Di fine anni 2015 e 2016 In realtà i casi critici sono 53 Di cui già oltretutto 5 Bloccati i finanziamenti Da parte del dirigente competente Quindi ce ne sono altri 48 Che molto probabilmente Hanno delle irregolarità inconfutabili Abbiamo portato degli esempi Visto che il Sindaco ci ha sfidato Su questo fronte Tre esempi che sono Esemplificativi di tutta questa storia Allora ad esempio L'associazione ha portato Come preventivo Bilancio preventivo Una bolletta del telefono Ci sembra Somma abbastanza Diciamo Poco sufficiente Come giustificazione di un contributo L'ha Ad esempio Visto che abbiamo parlato di fondazione teatro Anche il Sindaco ha parlato di fondazione teatro La fondazione per avere un contributo straordinario Deve avere intanto Una delibera apposita Da parte della giunta Che non c'è stata E poi deve presentare comunque Un resoconto di tutto quello Che farà in modo molto dettagliato E vi leggo Questo Dettaglio Con la presente Siamo a richiedere Un contributo straordinario Di 36.500 euro Per spese di gestione Della fondazione teatro della fortuna Tutto qua Insomma Se noi dobbiamo giustificare Una spesa così elevata Oltretutto Per una riga e mezzo Ci sembra abbastanza strano Oltretutto È chiaramente fuori dal regolamento Che lo stesso sindaco E la giunta hanno votato E per finire Anche qui ci fa capire Un po' come stanno andando le cose È arrivata una richiesta Di contributo straordinario Nella stessa data Il 29 dicembre Del 2015 In cui c'è stata anche La delibera di giunta Che ha approvato Questa richiesta Quindi addirittura Nello stesso giorno Questo fa capire una cosa Oltretutto confermata dal sindaco La giunta e il sindaco Sono in contatto diretto Solo con alcune associazioni L'ha detto lui stesso Che era in contatto Appunto con alcune associazioni E che cosa ha fatto Che cosa fanno Praticamente A fine anno Quando si realizzano Delle economie di bilancio Il sindaco Che per lui Contatta direttamente Queste associazioni Inducendole Oltretutto A portare Dei documenti Che sono fuori regola Sono del tutto irregolari Come abbiamo visto E oltretutto Non solo Fanno anche questo Ma l'approvano anche Questa richiesta Del tutto irregolare Quindi si presume Che ci sia un dolo A questo punto E anche una discriminazione Tra associazioni e associazioni Quindi E le altre associazioni Che magari non hanno partecipato Perché hanno visto Che il regolamento Giustamente Magari non glielo consentiva Che fine fanno Quindi mi chiedo Siamo in una repubblica Delle banane O in uno stato Di diritto Io penso che sia giustissimo Sostenere le nostre Associazioni fanesi Nel massimo Delle potenzialità Che il comune Possa attuare Però Bisogna rispettare Sicuramente Le regole E bisogna trattare Tutte le associazioni In una stessa maniera In modo equo E valorizzando I meriti Delle stesse C'è stato un incidente Frontale Intorno alle 18.30 Di oggi Sulla strada provinciale Urbinate L'altezza di via Sasso Un'auto Che scendeva Verso Pesaro Una Subaru grigia Con a bordo Una donna E due bambine Si è schiantata Contro un trattore In sosta Sul proprio lato Della strada La donna La guida E le figlie Sono state portate In ambulanza Al pronto soccorso Per accertamenti Il traffico Rimasto bloccato Per circa mezz'ora Per poi riprendere A senso alternato Sul posto è intervenuta La polizia Che ha compiuto I rilievi Del caso Oltre al PIL Il prodotto interno lordo C'è anche un altro parametro Per valutare Il benessere Di una società E si chiama BES Ed è sempre usato Però nelle grandi Città O nei capoluoghi Di provincia Ebbene Fano Potrà È la prima città Non capoluogo Che potrà Valutarlo E tutto questo Grazie appunto A Orizzonte Fano Dopo aver fornito La fotografia Della situazione Demografica Economica Lavorativa Edilizia E di dati Inerenti alla mobilità Fano ha deciso Di valutare Il grado di benessere Del suo territorio Per farlo Si è servita Del BES Benessere Equo E sostenibile Indicatore Che tiene Sotto controllo Il progresso Della città Non solo Dal punto di vista Economico Come fa il PIL Ma anche sociale Ed ambientale Un'esperienza pilota Perché il BES È ancora utilizzato Soltanto su base Provinciale E regionale E Fano È la prima città Non capoluogo Di provincia Ad adottarlo Tra le necessità Emerse Sindora L'esigenza Di rendere Open source I dati Che compongono L'indicatore Il BES Non serve Tanto a confrontarsi Con il contesto Ma con se stessi Come dice L'assessore Marco Paolini Si tratta Di calibrare Tutti gli obiettivi Sugli esiti Di questo indicatore Che poi Però è anche Difficile da fare Insomma Incrementare La qualità Dei servizi Questo è una cosa Che ci compete Ma anche incrementare Quella che è La ricchezza Di questo territorio Che però È un meccanismo Complessivo Quindi qualità Dei servizi Qualità dell'ambiente Qualità dell'istruzione Ma anche Qualità di vita E anche redditività Del lavoro Salute La situazione In provincia Di Pesaro Urbino È in linea Con i numeri Della regione L'aspettativa di vita Alla nascita Nel 2013 È di 80,3 Nati per maschi Nella regione È di 80,7 E di 85,8 Per femmine Nella regione È 88,5 Spicca il tasso Di mortalità infantile Di molto inferiore In provincia Nel 2011 8,6 decessi Ogni 10.000 nati Rispetto alla media Regionale Di 18,8 Positiva La condizione di Fano Dal punto di vista Dell'istruzione Nel 2011 Il 14,2% Della popolazione È laureata La media regionale È invece Soltanto Dell'11,2 Per cento Associazionismo Nel territorio fanese Nascono molte istituzioni No profit Ma pochi Sono i cittadini Che ne fanno parte Il numero di volontari Su base regionale Nel 2011 Supera i 100 Ogni 10.000 abitanti Mentre a Fano Si attesta Sul 48,4% Le tecnologie Condizione positiva Per la città Della fortuna Nei luoghi di lavoro Ogni 100 dipendenti Ci sono 105 computer 89 con accesso Ad internet In regione invece Sono soltanto 86,8 E solo 75 Con la possibilità Di collegarsi Alla rete Ed infine L'ambiente Funziona Il servizio di raccolta Differenziata A Fano Dal 2010 Al 2014 Il peso Sui rifiuti Totali È cresciuto Del 118% La produzione Di rifiuti Solidi urbani Registra un calo Del 9,5% Tra il 2010 E il 2014 I valori migliori Rispetto a quelli Della città Di Pesaro Sono quelli Di Fano Domenica Loreto C'è stata Una grande festa Alla quale Hanno partecipato Centinaia Di volontari Delle Proloquo Infatti a Loreto Si è celebrata La festa regionale Delle Proloquo Un esercito Di volontari Di cui le Marche Sono orgogliose Parola Di vicepresidente Del consiglio regionale Delle Marche Nel giorno Della festa Delle Proloquo Marchigiane A Loreto E con questo saluto Che Renato Claudio Minardi Ha voluto accogliere Le migliaia di volontari Provenienti Da ogni angolo Della regione Per passare Una giornata Di festa E di confronto L'UMPLI Ha scelto Per la seconda edizione Del suo evento Celebrativo Uno dei luoghi Simbolo Della regione Una giornata Dedicata A tutti coloro Che si impegnano Ogni giorno Con passione Ed amore Per la valorizzazione Delle bellezze Dei luoghi E' un sintomo Buono Un segno Che le Proloquo E hanno cominciato A capire bene Il messaggio Che anche Il nostro comitato Provinciale Sta dando E' stata una bella Soddisfazione Una giornata insieme Una giornata intensa Dove finalmente Abbiamo fatto festa Perché lavoriamo sempre Tutti i nostri volontari Lavorano Ieri è stato un momento Di festa per noi E soprattutto Un momento di preghiera Dedicata ai terremotati Allora adesso Lo sport Con Matteo Del Vecchio Buonasera Matteo Grazie Marco Per la prima volta Nel 2017 L'Alma Juventus Fano Non è più ultima In classifica Nel campionato Di Lega Pro La notizia Di quelle Che nell'ambiente Calcistico fanese Si aspettava da tempo E da ieri Si può tranquillamente Dire che per il Granata E' iniziato Un nuovo campionato La vittoria di Ancona Della scorsa settimana Aveva mostrato Un Fano in crescita Una squadra smagnosa Di dare tutto Per mantenere Quella Lega Pro Tanto sudata E che tanto prestigio Regala a chi Ha il piacere di giocarci Voglia di vincere Fame e furore agonistico Si sono riversati Anche ieri al Mancini Dove di fronte A poco meno Di 2000 spettatori Il Fano Ha superato Il Feralpi Salò Nella sfida valida Per la 29esima giornata Di campionato Lasciando dopo Dieci turni consecutivi L'ultimo posto Della graduatoria Ad aprire le danze Al sedicesimo E Gualdi Abile a sfruttare La galoppata Di Fioretti E a capitalizzare Il suo assist Il Feralpi Salò E' totalmente in balia Dei padroni di casa Che per 20 minuti consecutivi Creano occasioni Per raddoppiare Riuscendo nel loro intento Al trentaseiesimo Quando Filippini Viene steso Al limite dell'aria Dagliotti Cartellino rosso Per il difensore Gardesiano E sulla conseguente Punizione Germinale Con un tiro a giro In sacca All'incrocio dei pali Con un uomo in più E il morale a mille Il Fano Nella ripresa Amministra la partita E dopo aver contenuto Egregiamente L'inevitabile reazione Del Feralpi Fa centro Per la terza volta Al novantaduesimo Con un tiro Dal limite di Schiavini Prima del triplice Fischio finale Gol della bandiera Degli ospiti In rete al novantatreesimo Con Luce Come detto all'inizio Per il Fano Ora inizia Un nuovo campionato Due infatti Sono le lunghezze Di vantaggio Dalla zona salvezza Un terzultimo posto In classifica Per i ragazzi di Cuttone Che domenica prossima Saranno di scena Al Tardini di Parma Per una sfida proibitiva Ma alla quale Il Fano Alla luce soprattutto Delle ultime prestazioni Non si presenterà certo Per recitare Il ruolo della vittima Designata E così come sta facendo Il Fano Nel campionato di Lega Pro Anche nel campionato Nazionale di calcio A5 Le Fanesi di Serie B Stanno lottando In questa parte finale Di stagione Per evitare la retrocessione Un bel passo in avanti Verso questo obiettivo Lo ha fatto sabato L'etabeta Superando in casa Il fanalino di coda Cus Macerata Per 7 a 3 E salendo Al quintultimo posto Mattatore di giornata Galvao Che scrive il suo nome Nel tabellino Per quattro volte Un tabellino Completato poi Dalle reti di Pietrelli E Tai e Di Maggio Non basta All'Alma Juventus Invece la doppietta Di Nicola Spieri Per avere la meglio Sull'Atria Teramo E ora le cose Per i ragazzi di Ferri Si mettono male Va tutto storto Agli All Blacks Da un po' di tempo A questa parte E la sconfitta Nello scontro diretto Di sabato Fa scivolare i fanesi Al terzultimo posto Posizione che ne decreterebbe La retrocessione In Serie C Finisse ora il campionato Invece sarebbero Playout per l'etabeta Quint'ultima Ma con meno punti Rispetto alle squadre Che occupano La stessa posizione Negli altri gironi E continuiamo a parlare Di salvezza Ma ci spostiamo Nel volley Dove c'è da registrare L'ennesimo passo falso Dell'Apav Calcinelli Lucrezia Nel campionato Di Serie C femminile Il 3 a 1 Incassato a San Severino Dalle ragazze Di Morris Meloni È lo specchio fedele Metaorenzi Che giocano 4 set Punto su punto Ma non riescono A muovere la classifica Che le vede Sempre più In penultima posizione E con un piede Verso la Serie B Torna a vincere Invece la Virtus Fano In campo maschile E lo fa nel big match Di Colle Marino Un 3 a 2 esterno Che riporta i fanesi Al primo posto In classifica Posizione che consentirebbe Ai ragazzi di Pascucce E della vice Anna Vichi Di giocarsi Playout per la Serie B E sempre in tema di volley Ennesimo riconoscimento Per il fanese Davide Mazzanti Che dopo aver vinto Gli ultimi campionati Di A1 Guidando le ragazze Di Casal Maggiore E Conegliano Da qualche giorno È il neotecnico Della nazionale italiana Femminile di pallavolo E come spesso capitato In questa rubrica sportiva Torniamo a parlare Dei ragazzi Dell'ice Potsfano Che nel weekend Sono scesi in acqua Per disputare I campionati nazionali Di Vasca Corta Sabato 11 E domenica 12 marzo Alla piscina comunale Di Fabriano Si è svolto Il settimo campionato Italiano di nuoto Organizzato dalla FISDIR La federazione italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale Cui hanno partecipato Circa 300 atleti Due medaglie d'oro E una di bronzo Per la sedicenne Lisa Vernelli Un oro e due argenti Per il quattordicenne Lorenzo Bronzini Ed un bronzo Per il ventunenne Manuel De Marc Questo è il bottino Portato a casa Dai ragazzi Del coach Marta Mencarelli E del presidente Romina Lesiani Cui si aggiunge Anche l'ottima prestazione Di Manuel Anniballi Sesto Nei 50 metri d'orso Ancora complimenti Dunque ai ragazzi Dell'ice Potsfano Con il quale si chiude L'appuntamento sportivo Di questa sera Come sempre vi ricordo L'indirizzo mail Al quale poter inviare Le vostre segnalazioni Che è Ricordatevi che oltre a Sport e ChiorciolaFanoTV.it C'è anche questo numero di telefono Che è il 338 49 68 250 Al quale potete inviare I vostri messaggi Video, audio, testo, fotografie Insomma tutte le vostre segnalazioni Inviatele qui al numero Che avete appena visto In sovraimpressione L'informazione torna domani mattina Alle 7.30 in diretta Con Occhio ai giornali Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Grazie per aver guardato il video